e di rompetti, come hanno cambiato ancora un po' il modo di operare? Buongiorno a tutti e grazie a Tim per questo grandissimo invito. Due parole su di noi, sono un'azienda di Tantella che orgogliosamente fa ricerca e sviluppo in Italia da 102 anni e quindi siamo qui dopo tutto questo tempo perché abbiamo saputo abbracciare il cambiamento e essere sempre al passo delle tecnologie più innovative. A proposito, mi viene in mente un aneddoto di qualche giorno fa a proposito di libri a cui si riferiva a Tidio, un collega mi ha parlato di un quaderno di Tantella del 1990 nel quale si diceva come si parlerà con le macchine nel futuro, quindi interazione uomo-macchina, linguaggio naturale, scritto, quindi alla base dei large language models, insomma si parlava di intelligenza artificiale, quindi sono tecnologie che stiamo seguendo da tempo e ovviamente adesso più che mai stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione industriale, insomma poi si parla di terza rivoluzione, quarta rivoluzione, ma certamente la diffusione ormai esponenziale di tecnologie come l'intelligenza artificiale, come il cloud computing, il quantum computing, l'edge cloud, eccetera, stanno diciamo ormai cambiando il modo legalmente di lavorare all'interno delle aziende e del comportamento delle persone. Ovviamente dal nostro punto di vista dei sistemi integratori, noi vediamo le aziende, nel caso specifico, enormi opportunità per migliorare l'efficienza, la qualità del servizio delle aziende, ma allo stesso tempo esistono dei rischi legati alla complessità di queste tecnologie. C'è un tema di mancanza di competenze, di cui si è parlato, che tutti noi stiamo affrontando, c'è un tema anche di integrazione di queste tecnologie nei processi aziendali, c'è un tema di sicurezza dei dati e c'è anche un tema etico. Quindi sono molte le complessità, da una parte grandi opportunità e grandi complessità. Come in Tartel questo, diciamo, ha portato per noi un cambiamento nel modo in cui lavoriamo. Si è detto più volte, quindi non posso riconfermarlo, della necessità di lavorare in maniera più aperta, per cui fare innovazione in maniera aperta ormai da tanto tempo, ma più che mai ora, per cui cobrare per noi con il mondo delle start-up, del scale-up, con il mondo delle università accademiche, con i centri di ricerca, ormai è un master, non possiamo farne a meno. Quello che possiamo offrire noi è un'industrializzazione di alcuni concept, di alcune idee, e la possibilità di sperimentare su casi reali. Grazie. Quindi, per ora grazie, poi torniamo.